Prima di partire e dire qualsiasi cosa qua devi fare un respiro profondo Quando si va a parlare di una partita così importante Poi Juventus-Inter che ci sia in palio lo scudetto, che ci sia in palio una qualificazione Champions Che ci sia in palio anche nulla, anche la classica birra Ci affrontiamo, chi vince offre una birra all'avversario Che ci sia in palio anche soltanto quello E' una gara che si vuole vincere E' una gara che non vuoi sbagliare E' una gara del genere E' una gara di questo tipo E devi iniziare a parlare dell'arbitraggio E' già una sconfitta Al di là che abbiamo subito la sconfitta in campo Già, sta qui a parlare dell'arbitraggio E' già una sconfitta E' già una sconfitta Ma uno si può godere una cazzo di partita Dispiace perché oggi il peggiore in campo è l'arbitro Oggi il peggiore in campo è l'arbitro E' una partita del genere in cui il peggiore in campo è l'arbitro Mi girano i coglioni Mi girano i coglioni Attenzione 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 Non perché abbia favorito una piuttosto che l'altra Una meno No, no E' che semplicemente Cioè è una partita del genere Giudicate voi Giudicate voi Giudicate voi Delle robe assurde Delle robe assurde La doppia munizione di Bentancolo Quella è una roba assurda Una roba allucinante Un fallo che nemmeno Nemmeno stava lì a dare La doppia munizione a Bentancolo Nemmeno stava lì a darlo E poi andate a rivederle Non solo Poi gliel'ha dato il fallo dalla doppia munizione Roba assurda Segna l'Inter Dopo un minuto Gli regale un rigore Che non c'è mai Ma non mi venite a parlare di contatto Non contatto E' quadrato Che gli va addosso Fa la finta E il salto addosso Ma che fallo è Per carità Tutto quello che vuoi Forse Ma che fallo è Cioè delle robe Per me Assurde Assurde Ribadisco Per me Delle robe assurde Che hanno condizionato In qualche modo Lo svolgimento Della gara Lo svolgimento Della gara Ma ovvio che L'Inter Secondo me Oggi perde con merito Perde con merito Perché poi alla fine Non mi è piaciuto L'atteggiamento Per quanto Siamo lì a parlare Di arbitraggio E quindi Di tutti gli episodi Perché qua Tutti gli episodi Li possiamo andare a analizzare Tutti gli episodi Li possiamo andare a analizzare Il rigore Fischiato a Chiellini Il rigore Fischiato A Lautaro Possiamo parlare Di Kulosevski Nel primo tempo Che era già ammonito E forse C'erano gli estremi Per l'espulsione Possiamo parlare Di tanti episodi Possiamo parlare Del gol Di Lukaku Delle lamentelle Di Chiellini Possiamo parlare Di il rigore Della Juve Delle ammonizioni A Bentengu Possiamo parlare Di 50.000 cose E non ci troviamo Mai d'accordo Se non Che il peggiore In campo È stato l'altro Quindi Tralasciando questo Proviamo Proviamo In secondo grado Proviamo A parlare Della gara Una gara In cui Ribadisco L'atteggiamento Dell'Inter Almeno nel primo tempo Secondo me È stato insufficiente Perché il gol Segnato Da Quadrado Quello è Il classico Ce lo siamo Meritato Quando ho visto La palla Di Quadrado Insaccarsi Il classico Ce lo siamo Meritati Il gol Di Quadrado E il classico Ce lo siamo Meritati Perché li Videvi lì A bighellonare Ad aspettare Che finisse Il primo tempo Il tempo Che trascorre Stai lì Cazzeggi Perdi palla Gol Deviazione Boom Poi Possiamo Entrare Nel dettaglio Magari Poteva far meglio Andarci Anche se la deviazione Era avvicinata Di Eric Però Tutto E figlio Del fatto Che stavi Lì A bighellonare Poi nel secondo Tempo Sei entrato Con un piglio Diverso La partita Ripeto Poi è andata In maniera Diversa Perché te la sei Giocata Con la superiorità Numerica Eppure Hai fatto poco Secondo me Hai fatto poco L'occasione di Vesino E il gol Questo abbiamo fatto Nel secondo tempo L'occasione di Vesino Colpo di testa E il gol Questo abbiamo fatto Quindi Io mi sento di dir Che l'Aventus Ci ha creduto di più L'ha voluto di più Ovviamente Aveva un motivo Di più Per fare Per fare bene Sicuramente Per me Hanno sofferto Quando dovevano soffrire Hanno fatto i gol Quando dovevano fare Ci sono Ribadisco Episodi Che pesano Sulla testa di una squadra E sulla testa dell'altra Abbiamo citati Lì abbiamo citati Ognuno poi dirà la sua Invita a voi A dire la vostra Sotto Perché ripeto Qua Qua ognuno dirà la sua E ci sta E ci sta Perché qua Tutto è discutibile Tutto è molto discutibile Poi detto questo Pazienza Poi detto questo Pazienza Perché Dopo Dopo la cavalcata Nel Nel girone di torno Quando porti a casa 15 vittorie E due pareggi Lo so Che esce fuori Una sconfitta Che non vuoi Perché contro la Juve Lo so Però non è che posso Non è che posso Sparare A questi giocatori Assolutamente no E rinegare Quanto abbiano Abbiano dato Oggi Credo che si Si potesse dare Qualcosa in più Però Pazienza Alla fine Pazienza A caldo Uno A caldo giustamente C'è la sconfitta E fremo Fremo Sicuramente Però Non posso Non posso Recriminare nulla Questa squadra Pazienza Solo Solo pazienza Peccato Peccato Che si parlerà Si parlerà solo Della arbitraggio Perché è giusto Purtroppo è giusto Anche che sia così Perché ci sono stati Troppi Troppi episodi Non è che qua parliamo Di uno Due Qua parliamo Di dieci episodi Di dieci episodi Che come dice Biasin Forse Se li avesse fischiati Al contrario Avrebbe sbagliato meno Forse se tutti gli episodi Li avesse decisi Al contrario Forse avrebbe sbagliato meno Quindi Onestamente Detto questo E' andata così E' andata così Pazienza Niente 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 Ragazzi Buona Cazzo Che cazzo Peccato Peccato E' normale Che una partita del genere Non si vuole perdere A caldo Non ci sto Non ci sto Non ci sto Come si suol dire Rosico 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 Sì sì Rosico Forse sto resicando troppo Chiedo anche scusa Se sto resicando troppo Ma è nel mio diritto Rosicare Pazienza Pazienza Va bene Va bene lo stesso Va bene così E Niente Ribadisco Non Non si Cancella Con una spugna Quanto Quanto fatto Nel girone di ritorno Quindi Ci può stare Dispiace Ma Ma ci può stare Ripeto Peccato Peccato Che comunque Si parlerà solo Di episodio di abitare Perché in questo caso È anche doveroso farlo È Doveroso farlo È Analizzare questa vera Anche Anche Per Per un futuro Anche Anche per un futuro Perché ribadisco Quanto ho detto L'altro giorno Parlando Del video Che era Il Benevento Che siamo arrivati Al paradosso Siamo arrivati Al paradosso E quando arrivi Al paradosso Uno si deve fermare E deve analizzare Bisogna capire Se questa è la strada Che vogliamo percorrere Che per qualsiasi cosa Per qualsiasi episodio Qua Assegniamo un calcio di rigore Un fallo Per qualsiasi cosa Qua dobbiamo meditare Perché se noi Se noi continuiamo così Avremo partite In cui tutte le gare Finiscono Quattro a quattro Cinque a cinque Perché ci saranno Rigori Espulsioni E quanta Su questa partita Che serva Che serva Che serva Che serva Da lezione Perché Veramente Siamo arrivati al punto Che tocco Non tocco Il contatto Non contatto L'episodio Bisogna vedere Ma se lo tocca Ma l'entità Ma forse Il bar Ma questo No Dobbiamo fissare un po Dei paletti Dei paletti Farei forse anche Un passo indietro Perché il calcio È uno sport Di contatto Se il calcio Siamo lì A centellinare A centellinare Ma ripeto Non che mi vada A favore o a sfavore Io parlo Parlo da Proprio da amante Del calcio Lasciamo stare L'episodio di oggi Lasciamoli stare Nella fattispecie Da amante Del calcio A me Non piace Questo sport Che sta eliminando Il contatto Il calcio È uno sport Di contatto Quindi Ripeto Sia dalla parte Sia dall'altra Meditiamo Meditiamo Perché lo sport Il calcio È uno sport Di contatto Il calcio È uno sport Di contatto Porca miseria E ogni partita Sto vedendo Ma il tocco Nella intensità È il cazzo Che me ne frega Ogni partita Il tocco Basta Meditiamo Perché stiamo andando Verso una direzione Che non mi piace Non mi piace Ma ribadisco Rosico Perché sto rosicando Ma non mi piace Sto fatto Non mi piace Non mi piace Ribadisco Non mi piace Nemmeno giocare In superiorità numerica Quando non è giusto Che sia così E non mi piace Subire un rigore del genere Perché non mi piace Sono ste robe qua Quindi meditiamo 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 Vabbè Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Commentate Like Un grande abbraccio Un grande abbraccio